L'imprenditore Massimo Ciancimino è stato fermato da agenti della DIA di Palermo per ordine dei magistrati della distrettuale antimafia palermitana. Il figlio dell'ex sindaco mafioso della città siciliana Vito Ciancimino, indagato a Cartanissetta per aver calunniato l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, aveva consegnato alla procura palermitana documenti, tra cui uno in cui c'è proprio il nome del direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, appunto De Gennaro. Documento che sarebbe stato alterato. Il documento è una fotocopia di un foglio redatto da Vito Ciancimino con un elenco di nomi di personaggi delle istituzioni che avrebbero avuto un ruolo nella cosiddetta trattativa. Da una perizia ordinata dalla distrettuale antimafia consegnata oggi ai magistrati che conducono l'inchiesta sulla trattativa, è emerso che il nome di De Gennaro sarebbe stato scritto in epoca successiva alla redazione del manoscritto. Il documento, inoltre, sarebbe in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso Massimo Ciancimino durante gli interrogatori alla procura di Palermo. Ciancimino, che è stato portato in questura a Bologna, dovrebbe fornire spiegazioni ai magistrati di Palermo. Massimo Ciancimino, condannato per riciclaggio di almeno una parte del patrimonio accumulato dal pare, successivamente diventato testimone in alcune inchieste, è stato di recente chiamato a chiarire anche i suoi rapporti con un inquisito per Drangheta. Sul suo ruolo non tutte le procure che si occupano di stragi e strategie occulte di Cosa Nostra, dei rapporti con la politica, la pensano allo stesso modo.